Buongiorno a tutti quanti, buon giovedì, good morning, good morning, totalwelt. Anche oggi volevo salutarvi prima che andavo a lavorare. Questo è un giorno meraviglioso, ho ricevuto delle notizie stupende dall'alto e ve le voglio condividere. In questi giorni ci saranno delle novità molto, molto potenti. Cercatemi nei miei profili perché ce ne ho tanti profili. Cercate Angelo Piccone, aggiungetemi in tutti i profili che c'è spazio. Dove sono a 5.000 potete vederli in online, nei video, in diretta. Dove ho spazio, richiedetemi l'amicizia perché mano a mano che vado entrando nei profili vi vado aggiungendo. Con questo voglio fare una piccola preghiera di lode e ringraziamento a Dio. Chiudete gli occhi se vi è possibile. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per queste belle notizie che tu ci hai donato. Grazie Padre ancora per quello che tu farai, ancora sia a me che a tutti gli altri, fratelli, sorelle, amici, simpatizzanti in tutto il mondo. Grazie del tuo beneficio, grazie del tuo amore, grazie della tua potenza e ti voglio pregare soprattutto per tutti gli ammalati, i carcerati, le vedove, i bisognosi, i senza tetto. Chi sta soffrendo che non trova lavoro, Signore, fai che possa trovare un lavoro decente che possa spammare la famiglia. Ti ringrazio Padre ancora per questo. Per ultimo benedici ancora a me, Signore, di più di quello che stai benedicendo. E soprattutto apri ancora qualche valvolina di poter insegnarmi tutte le lingue a memoria. Soprattutto la tua parola, la Bibbia, a memoria, verso per verso, capitolo per capitolo e versetto a versetto. Signore, tutto quello che ti chiedo è fare alla tua volontà. Tutto quello che ti sto chiedendo è per aiutare il tuo popolo a seguirti, ad amarti e a lodarti. Non chiedo altro, Signore. Ti ringrazio, ti lodo, in nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Cari, nella grazia potete aprire io che la finita ci sentiremo nell'ora di pausa e sto andando a lavorare. Amen. Pace del Signore a tutti. Amen. Amen.